Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 6321, di Trenitalia, delle ore 19 e 38, proveniente da Salsu Maggiore Terme, è in arrivo al binario 1, Piazzale Omest. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.